Ciao, sono Azzurra Piccardi, fotografa specializzata in beauty e moda. Benvenuti a questo nuovo tutorial dove rispondo ad alcune delle vostre domande sul moiré. Quando scattiamo fotografie è possibile che si possano verificare strani motivi colorati o meno in immagini che contengono molti dettagli precisi. Tali motivi sono noti come moiré e possono causare molti mal di testa a noi fotografi. In questo articolo daremo uno sguardo a cos'è il moiré, cosa lo causa, come è possibile ridurlo in fase di scatto e come possiamo correggerle anche in post-produzione. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è il moiré? Con questo termine viene indicato un motivo che può variare di forma e colore che si verifica quando una scena o un oggetto che viene fotografato contiene dettagli ripetitivi come linee, quadratini, puntini e quant'altro che superano la risoluzione del sensore. Di conseguenza la fotocamera produce motivi ondulati dall'aspetto strano simili a questi qua. Riesce a vedere lo strano motivo arcobaleno così come il motivo ondulato? Questo è il moiré e si verifica solamente quando si fotografano oggetti di uso quotidiano. Infatti il moiré non è quasi mai visto in natura ma può essere trovato comunemente quando si fotografano oggetti di uso quotidiano. Potresti infatti averlo visto in diverse tipologie di tessuto come tamice, jeans e tende ad esempio ma anche in architettura oppure quando si inquadra anche un monitor. Ora ti chiederai come si forma il moiré? Nella fotografia il moiré si verifica quando l'oggetto da fotografare contiene una texture dettagliata che va ad aggiungersi alla texture del sensore della fotocamera. Di fatto due texture sovrapposte che vanno a creare un terzo motivo molto fastidioso e decisamente poco estetico che prende appunto il nome di moiré che cambia al cambiare della posizione delle texture. Dai un'occhiata a questa semplice griglia creata per imitare il modo in cui i pixel del sensore digitale si sovrappongono ad una seconda texture. Questo è quello che succede quando due texture si sovrappongono l'una all'altra. La combinazione e lo spostamento di una delle due texture porta a molte nuove texture differenti. Come puoi vedere infatti combinando le prime due griglie e sovrapponendole l'una sull'altra si creano molte nuove forme, tutte ripetute. Questo è essenzialmente il modo in cui si forma il moiré. A seconda della frequenza e della direzione delle griglie si possono visualizzare texture differenti e una volta che le informazioni sul colore viene aggiunta all'immagine dal filtro Bayer durante il processo di demosaicizzazione, sulla parte superiore dell'immagine possono addirittura apparire anche ulteriori motivi a forma di arcobaleno. Per molti anni i produttori di fotocamere si sono occupati della texture moiré cercando di eliminarla e per fare questo hanno introdotto un filtro sfocatura nel filtro passabasso ottico che è un filtro inserito all'interno di molte fotocamere digitali che si trova di fronte al sensore. La funzione di tale filtro è quella di ridurre la quantità di dettagli di una scena in modo da ridurre drasticamente la possibilità che i motivi moiré possano comparire nelle immagini. Ciò è stato particolarmente di successo per quelle fotocamere con la risoluzione relativamente bassa ma le cose sono cambiate un po' con l'introduzione di sensori ad alta risoluzione. Con l'aumentare del numero dei pixel anche le possibilità che si verificano motivi moiré sono leggermente diminuite. Per questo motivo i produttori di fotocamere hanno capito che possono fornire un livello maggiore di dettagli per coloro che ne hanno bisogno eliminando appunto il filtro sfocatura. Solo per alcuni modelli di fotocamere si intende. Ciò però potenzialmente potrebbe appunto reintrodurre il moiré in alcune tipologie di immagini. Alcuni produttori di fotocamere hanno persino pensato di fornire due diverse versioni di fotocamere per offrire entrambe le opzioni. Ad esempio pensiamo alla Nikon D800 originale che aveva il filtro sfocatura mentre la D800E non ce l'ha. Come anche in casa Canon si è deciso di creare due modelli uguali uno con il filtro e uno senza. Sto quindi parlando della Canon DS e DSR dove la prima ne è provvista di filtro intendo e nella seconda invece il filtro passabasso è stato rimosso con l'effetto di potenziare leggermente la nitidezza e la risoluzione dell'immagine sebbene ciò comporti come abbiamo detto un maggiore rischio che appaiano nelle immagini effetti moiré e falsi colore. Per tale motivo a mio avviso le fotocamere senza filtro passabasso sono consigliate ai fotografi specializzati in paesaggi o a quelli che preferiscono controllare rigorosamente le condizioni di scatto in uno studio fotografico. Nonostante i potenziali problemi con il moiré l'accresciuto livello dei dettagli nelle immagini è stato accolto con favore dalla maggior parte dei fotografi. Mentre da un lato è bello poter ottenere quanti più dettagli possibili dalle fotocamere ad alta risoluzione dall'altro molti fotografi però si imbattono in queste texture moiré quotidianamente durante le loro riprese sul campo e non sanno effettivamente come gestirle. E devo dire che ho riscontrato e riscontro quotidianamente queste problematiche nei miei studenti che spesso mi chiedono come possa essere possibile avviare o correggere questo problema. Per questo ho deciso di realizzare questo video. Sebbene esistano vari metodi per ridurre efficacemente il moiré che vedremo in seguito, non esiste un metodo semplice per rimuoverlo completamente in post-produzione. Per rimuoverlo completamente serve un po' di pazienza e vedremo poi come. Pertanto è consigliabile affrontare il problema al momento dell'acquisizione quando è possibile. Come vedremo di seguito il moiré può essere abbastanza difficoltoso da gestire in post-produzione, quindi è meglio evitarlo in fase di scatto. Per questo motivo di seguito ti darò alcuni suggerimenti da tenere presente in fase di ripresa al fine di evitare il fastidiosissimo effetto moiré. Prima di tutto analizza le tue immagini sul display LCD della tua fotogramera con una visuale al 100%. Se stai scattando qualcosa che potenzialmente può generare moiré è necessario saperlo se c'è o no. Pertanto guardare l'anteprima ad una percentuale che ti permette di vedere l'intera fotografia sul display LCD potrebbe non rivelare questo effetto moiré quindi è fondamentale ingrandirla al 100% per essere sicuri di poterla vedere. Sfortunatamente l'uso di livelli di zoom diversi dal 100% può produrre anch'esso l'effetto moiré solo sull'LCD e quindi è un effetto momentaneo a causa del ricampionamento dell'immagine quindi sarà necessario visualizzare le immagini al 100% e se possibile sarebbe ancora meglio scattare in tethering e quindi vedere l'immagine a schermo in modo tale da vederlo ancora più grande ed essere sicuri di vedere completamente le informazioni. Se vedi del moiré e vuoi evitarlo ecco come fare. Il primo fondamentale suggerimento che posso darti è quello di cambiare la distanza dal soggetto oppure regolare la lunghezza focale. Puoi avvicinarti o allontanarti fisicamente dal soggetto oppure puoi ingrandire o rimpicciolire il soggetto modificandolo con lo zoom del tuo obiettivo. Infatti spostandoti ad una distanza differente dovresti vedere scomparire il moiré. Non è necessario spostarsi di tanto e di metri e metri, a volte questo significa anche solo allontanarsi o avvicinarsi di pochi centimetri dal soggetto. Sebbene non sia sempre possibile, altro statale gemma è quello di regolare la messa a fuoco su un'area diversa. Infatti regolando la messa a fuoco un po' più lontano dal moiré questo si ridurrà o potenzialmente si eliminerà. Va da sé che per le immagini di moda, ad esempio, dove si deve andare a raccontare il capo, non è possibile adottare questo statale gemma. Altro statale gemma invece adottabile è quello di cambiare l'angolazione della fotocamera. Infatti semplicemente cambiando leggermente l'angolazione della macchina fotografica puoi eliminare completamente anche i motivi moiré molto forti. Imposta l'obiettivo fino a f11, f16. Quando gli obiettivi vengono impostati oltre una certa apertura, al seconda dell'obiettivo e della dimensione del sensore della fotocamera, entra in gioco un fenomeno ottico noto come diffrazione. La diffrazione riduce efficacemente la risoluzione, che elimina anche l'effetto moiré. Pertanto, se per qualsiasi motivo non puoi cambiare la distanza della fotocamera dal soggetto o la lunghezza focale, questa tecnica sicuramente potrebbe funzionare. Se invece non riesci a fare nulla di quanto suggerito e stai scattando ancora immagini che presentano del moiré, l'unica opzione possibile è provare a risolverlo in post-produzione. Vediamo dunque come gestire queste tecniche con i software dell'Adobe. Nello specifico vedremo come correggere questa problematica sia con Lightroom sia che con Photoshop. Iniziamo con Lightroom. Sfortunatamente, rimuovere il pattern moiré in un'applicazione di editing come Lightroom a volte è impossibile. Intendo dire impossibile rimuoverla del tutto. Questo software, infatti, per certi versi, è più limitato di Photoshop quando si parla di editing e fotoritocco di alto livello. Tuttavia, è comunque possibile ridurlo un po', specialmente quando si tratta di casi lievi. Le fotografie con moiré, molto visibili e di grandi dimensioni, possono essere riparate solo con Photoshop. Poi vi mostrerò anche come. Questo processo, diciamo, è un lavoro più studiato, una tecnica più studiata e richiede un po' più di tempo e più pazienza. Ma torniamo a Lightroom, dove utilizzo il pennello di regolazione per ridurre il tanto di alto moiré. Vorrei utilizzare questa immagine perché ha un motivo moiré molto forte, con colorazioni arcobaleno, giallo e verde. Questo tipo di moiré è molto difficile da correggere in post-produzione e richiede l'uso di Adobe Photoshop per sbarazzarsene completamente. Dopo aver importato la foto in Lightroom, andiamo al modulo sviluppo, quindi facciamo clic sul pennello regolazione. A questo punto, selezioniamo la regolazione moiré e facciamo scorrere il cursore fino a 100. Se il pennello di regolazione ha una dimensione troppo piccola, è possibile sempre ingrandirla, facendo scorrere dimensione sotto le impostazioni del pennello ad un valore più grande. Dopodiché andiamo a dipingere l'area che vogliamo correggere. Se non riusciamo a vedere l'area interessata, è possibile attivarla attraverso strumenti, sovrapposizione, pennello regolazione, mostra, sovrapposizione. Ecco, prima e dopo. Come puoi vedere, i colori dell'arcobaleno giallo e verde sono andati via, l'abbiamo rimossa dall'immagine, tuttavia la texture sembra ancora strana, con linee più scure e visibili. Queste linee le potremmo andare a correggere andando a lavorare sul canale della luminosità. Però Lightroom non permette di apportare correzioni locali così precise. Pertanto, come ho affermato prima, quando il moiré è troppo visibile, è impossibile da rimuovere completamente in Lightroom. L'unico modo per sbarazzarsene è utilizzare la procedura molto più complessa in Adobe Photoshop. E adesso ne vedremo insieme i passaggi. Eccoci finalmente alla fase finale di questo tutorial su come rimuovere il moiré, dove qui ci affideremo a Photoshop per ottenere il nostro scopo. Photoshop è un software complesso che offre moltissima flessibilità e tantissimi strumenti per affrontare molti problemi. Di conseguenza, esistono letteralmente dozzine e dozzine di metodi diversi che è possibile utilizzare per rimuovere il moiré. Ne ho provati diversi e ho scoperto che il metodo seguente funziona meglio per le peggiori fotografie infestate dal moiré. La maggior parte degli altri metodi che ho provato utilizza una sorta di tecnica di applicazione di sfocatura che va a degradare effettivamente la qualità dell'immagine per questo motivo sconsiglio queste tecniche e preferisco questa che sto per dirvi. Chi mi segue da tempo ormai lo sa ma è bene ripeterlo per i nuovi arrivati. Evitiamo sempre di applicare sfocature deterioranti nelle nostre fotografie. Ne gioverà la qualità dell'immagine finale. Se lavoriamo con un file originale preferibilmente un file RAW otterremo sicuramente risultati migliori che se lavorassimo con una piccola immagine in JPEG come in verità farò io in questa dimostrazione. userò due diverse tecniche a seconda della tecnica utilizzata il processo di gestione del moiré e i risultati saranno differenti più o meno precisi. Il primo metodo di gestione del moiré che voglio condividere con voi utilizzando Photoshop prevede l'utilizzo di Adobe Camera RAW che funziona in modo molto simile al Lightroom per cui apriamo semplicemente l'immagine in Photoshop quindi selezioniamo filtro filtro Camera RAW a questo punto vedremo la finestra di Camera RAW apparire similmente ai passaggi che abbiamo visto in Lightroom selezioniamo lo strumento pennello di regolazione e dipingiamo su tutte le aree che vorremmo correggere e che presentano il motivo moiré una volta fatto questo aumentiamo semplicemente il cursore riduzione moiré fino al punto in cui scompare il motivo arcobaleno mentre lo facciamo scorrere verso destra osserva l'area su cui abbiamo dipinto se hai la maschera sovrapposta attivata e visibile assicurati di disattivarla prima per questa particolare immagine ho dovuto impostare un valore di 58 per liberarmene ovviamente ogni immagine avrà necessità di una quantità differente per cui valuta di volta in volta la giusta applicazione il risultato finale sarà molto simile a quello che ho mostrato in Lightroom precedentemente se volete invece fare un ulteriore passo avanti e provare a ridurre i motivi scuri visibili guardate la tecnica che sto per spiegarvi che impiega la modalità di colore e i canali la tecnica si divide in due fasi dove il primo rimuove il motivo arcobaleno e il secondo si occupa di motivi scuri attraverso l'utilizzo del canale di luminosità veniamo alla prima fase rimuovere l'effetto arcobaleno una volta che abbiamo aperto la foto in Photoshop la cosa che faremo è fare una selezione dell'intera area che contiene il moiré è possibile utilizzare diversi strumenti per raggiungere questo obiettivo io ho usato lo strumento lazo magnetico insieme alla modalità maschera veloce per effettuare la seguente selezione ma voi potrete utilizzare qualsiasi altra tecnica per effettuare la vostra selezione come vi torna comodo una volta fatta questa selezione usate lo strumento contagocce per selezionare il colore di primo piano assicuriamoci di scegliere il giusto colore all'interno della selezione io personalmente ho usato il lato superiore sinistro della giacca quindi creiamo un livello vuoto andando su livello nuovo livello e cambiamo la modalità di fusione di livello in colore con questo nuovo livello selezionato andiamo su modifica riempi e selezioniamo il colore di primo piano usiamolo e premiamo ok quello che abbiamo fatto qui in pratica è andare a dipingere l'area selezionata con un colore molto simile a quello del tessuto che vogliamo correggere e ciò è stato possibile grazie al metodo di fusione colore che non fa altro che applicare solo la tonalità a livello quando si utilizza questa modalità di fusione è necessario prestare attenzione alle alte luci e alle basse luci che potrebbero conferire un colore più o meno saturo di quello che stiamo ricercando in definitiva questo passaggio va a rimuovere completamente il motivo al covaleno dal tessuto poiché la modalità di fusione dei livelli è impostata sul colore come abbiamo detto se il colore del tessuto cambia o pare diverso dal colore originale proviamo a tornare al passaggio precedente nel quale selezioniamo il colore e scegliamo una variazione leggermente diversa di colore in modo che si avvicini maggiormente a quello del tessuto come puoi vedere il risultato è molto simile a quello che si ottiene in Lightroom e in Camera Raw tuttavia la texture chiaroscura dall'aspetto strano è ancora lì e sembra davvero molto fastidiosa per avviare a questo dovremo eseguire un secondo passaggio che prevede la sistemazione della problematica attraverso il canale della luminosità questa parte è molto più complessa della prima e potrebbe essere necessaria qualche modifica per ottenere migliori risultati per prima cosa togliamo la visibilità dall'ultimo livello creato facendo clic sull'occhio di fronte al livello assicuriamoci ora che l'area selezionata rimanga selezionata o se abbiamo deselezionato appunto la selezione scusate il gioco di parole possiamo ricaricarla premendo Command per Mac o Control per Windows più cliccare sul livello al quale abbiamo appena tolto la visibilità a questo punto selezioniamo lo sfondo e creiamo un altro livello proprio come abbiamo fatto prima quindi livello, nuovo livello e cambiamogli la modalità di fusione nuovamente in colore e premiamo OK ancora una volta andiamo su modifica, riempi dove però questa volta selezioniamo bianco come colore e lo usiamo premendo OK la parte selezionata dell'immagine dovrebbe ora diventare in bianco e nero e la nostra texture dovrebbe essere ancora visibile selezioniamo nuovamente lo sfondo e andiamo a creare un livello di regolazione tonalità e saturazione andando a selezionarlo proprio dal pannello delle regolazioni ora l'idea di questo particolare passaggio è di regolare i livelli di tonalità e saturazione fino a quando i motivi muorei generati dalla luminosità vengono completamente rimossi se siamo fortunati o attenuati assicuriamoci di guardare l'area della problematica ad una visualizzazione del 100% e appunto vederla un po' da vicino in Photoshop con il livello tonalità e saturazione selezionato iniziamo a regolare il cursore della tonalità con il mouse o con la penna grafica spostiamoci lentamente verso sinistra e osserviamo l'area problematica quindi facciamo lo stesso spostandolo verso destra scoprirai che il motivo diventa più pronunciato mentre ti sposti all'estrema sinistra o all'estrema destra mentre i valori intermedi minimizzano il motivo per questa particolare immagine un valore di tonalità di meno 40 sembra darmi abbastanza un buon risultato non è perfetto ma non è neanche male, insomma lo attenua quindi facciamo lo stesso con il cursore della saturazione spostando lentamente il cursore da destra a sinistra ancora una volta scoprirete che i valori estremi renderanno la texture ancora più visibile a volte spostare questo cursore non porterà nessun risultato come nel mio esempio dove ho appunto lasciato il mio livello di estrazione su 0 ormai la maggior parte dei problemi di pattern dovrebbero essere abbastanza scomparsi o attenuati dall'area selezionata l'ultimo passaggio è attivare il secondo livello quello che abbiamo appunto deselezionato e ciò renderà visibile nuovamente i colori del tessuto se vuoi unire tutto in un singolo livello per ridurre le dimensioni del file puoi andare su livelli e appiattisci immagine tuttavia se si desidera applicare la correzione in modo non distruttivo e poter tornare al documento e apportare ulteriori modifiche in futuro è necessario mantenere i livelli aperti al fine di preservare il proprio lavoro ed è quello che consiglio sempre di fare cercare di lavorare sempre in maniera non distruttiva in modo tale che se per qualsiasi cosa c'è da fare in futuro una correzione saremo in grado di poterla fare qualora dopo tutto questo lavoro il pattern del moiré questo dannato pattern fosse ancora un po' visibile allora ti suggerisco di fare un ulteriore passaggio che ti richiederà un po' di pazienza ovvero quello di applicare due regolazioni di livello curve che vanno a schiarire e a scurire l'immagine le quali dovranno poi essere in modalità di fusione luminosità ed avere una maschera invertita questo perché una volta creati questi livelli di regolazione quello che dobbiamo andare a fare è dipingere con un pennello bianco piccolo e dalla punta sfumata dobbiamo andare a dipingere sulle curve che schiariscono le aree scure e viceversa dobbiamo andare a dipingere sulle curve che scuriscono sulle aree chiare in modo tale da uniformare le zone di luce ed ombra ed eliminare così definitivamente l'effetto moire in questo modo qui come vedete ci vuole un po' di pazienza un po' di occhio e un po' di mano soprattutto se siete pratici con la tavola grafica sicuramente farete senz'altro prima e impiegherete molto meno tempo ma questo dipende dalla vostra mano e dall'abitudine con cui siete abituati a lavorare il mio suggerimento qui è di non lavorare ad uno zoom troppo avanzato perché questo ci porterà a lavorare molto di più accendo e spengo per mostrare la differenza e come vedete sembra molto meglio adesso non è ancora perfetto dovrei lavorarci ancora un po' di più per renderlo perfetto i motivi ancora più piccoli sono ancora visibili la rimozione di questi potrebbe essere un compito piuttosto noioso lungotto ma sicuramente fattibile spero che queste tecniche ti aiutino a evitare o a correggere il fastidioso effetto moire e fammi sapere la tua tra i commenti a presto